negli episodi precedenti e incominciamo alla grande youtube è buono brutto o cattivo lo scopriremo dopo e riassunto faccio subito entrare qualcuno così iniziamo un po la chiacchierata faccio entrare il mio braccio destro vincent ma la sigla è andata si non era una sigla ma era un riassunto no io la sigla non l'ho vista cosa guardavi e grazie a dio che è partita la live perché non funzionava niente tre secondi prima io ho preso le famose goccine e andiamo subito con gino facciamolo entrare facciamo anche un applauso facciamo entrare il regista che non so perché è rimasto fuori tutto sto carino un'interferenza dai che ha tenuto la vena premuta tutta la giornata si sta alzando si sta alzando ok ma che sta successo ma che è quella cosa bianca la porcellana giussimo 89 che è bloccato in una situazione bruttissima il nostro mentore il nostro il nostro faro guida mentre luigi sta avendo delle convulsioni la merau non si sente e si vede un successo buonasera facciamo entrare avk scusate sono verticale perché ho il telefono ecco così è perfetto facciamo entrare il nostro grande amico davide gatti perché dice che la live è iniziata da 0,1 secondi hanno scritto ma scusate oggi non è una giornata particolare per uno che in teoria auguri vincenzo auguri auguri vincenzones auguri auguri ma sent quasi ma ma io non ce l'ho bellissimo inaspettato mi sono commosso allora partiamo un attimino subito a spiegare di che cosa volevo parlare questa sera cosa ne pensate mentre vincenzo va a mettersi il pannolone ricordo che la settimana scorsa abbiamo parlato di copyright internazionale e poi dice che sempre in giro a lavorare vedi dove non ho ben capito come funziona la cosa youtube ci rompe le palle sempre con il copyright però dividiamo le due cose sia è una cosa copyright e tutto il resto è un'altra chiudo tutto ciao gino il nostro classico la strada sarà ancora lunga mi sa non ci sono i sottotitoli scusate ecco visto che c'è il gamberetto gli faccio prendere un po dare e comunque su youporn c'è sicuramente una sezione di sesso con gli elettrodomestici quindi lui fa parte di quella settimana e allora visto che di recente ho aperto un secondo canale ne avrò anche un terzo un quarto e un quinto mi hai dato un'ottima idea aprire un canale anche su youporn abbiamo ovviamente non mi rilenco e affidarsi affidarsi all'oretta a due ore massimo affidarsi all'oretta chi è l'oretta oggi e poi l'ikabue ovviamente l'ikabue non è che io ho sconto tutte le canzoni lega 2 ma l'ikabue ha fatto tante canzoni tutte uguali sempre questa canzone sul jukebox sempre con kama sì sì con kama io ero jukebox mi schiaccia mi schiaccia mi schiaccia mi fa paura che la conosciamo tutti sta canzone tutti a pulire il monitor dopo che era finita la pericolazione vai pulisci togli togli grazie ciao ciao no aspetta mettiamolo perché è bello viva Bill Gates viva i potei forti via solo viva Bill Pharma grazie di aver passato qua da noi mancava viva la figa però anche questo divano questa inquadratura qua mi ricorda qualcosa ma non saprei dire cose sappiamo tutti che cosa tutti facciamo finta di nio poi arriva l'indiano che piazza un telefonino di vent'anni fa attenzione a dire indiano è offensivo dopo è politica le corrette a ce l'hai con gli indiani puoi dire siciliano puoi dire ma non indiano ma più inclusivi di noi che ci abbiamo kama in live ma che presentatore buonanotte mi sono incartato perché non mi ricordo più cosa stavamo dicendo il cavallo e la cavalla quando si accorge non c'entra il cavallo la cavalla abbiamo un ospite inatteso imprevisto pixel prog questo è il mio terzo brano che vale per vale per tutti i brani di michael jackson non solo thrill è l'autore in sé e tutto quello che è stato non solo la musica ma anche la persona e tutto quello che ha fatto ma penso che ho visto tutti i concerti italiani mi stupisci non avrei pensato non ti vedevo come fan di michael jackson pirco mi si è spenta la luce cosa ci faccio lavorando per noi le mignottone prossimamente ma usate ma spiegatemi un po questo fatto delle trovi a casa cioè devo aspettare che venne lo cioppone vicino alla porta cosa li faccio io fai uno schizzo no 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 cominciò a fare la copertina bellissimo riassunto grazie zolex sarebbe carino dire cosa ci sarà settimana prossima allora senza dare nell'occhio così pian pianino così in prima pagina vi faccio vedere la locandina di settimana prossima grazie a tutti